Dottore Ligurone, tra le patologie dermatologiche emergenti e molto diffuse c'è la psoriasi? Sì, la psoriasi sicuramente è una di quelle malattie che interessa l'acute, che ha un'incidenza molto alta. In Italia ne ha affetto circa il 3% della popolazione e negli ultimi tempi noi abbiamo fatto dei passi importanti nella terapia di questa patologia. Grazie all'arrivo dei biotecnologici, questi nuovi farmaci che permettono di trattare anche i casi più gravi della malattia. Al Centro Polispecialisti con Alisan di Salerno, il 16 gennaio prossimo, una giornata di screening gratuito per quale tipo di patologie? Ci concentreremo sicuramente sulle patologie di tipo neoplastico. Per quanto riguarda i pazienti affetti da questa malattia, sono particolarmente invalidanti. Se parliamo del melanoma in particolare, sappiamo bene che l'incidenza di questo tumore è aumentata tantissimo negli ultimi anni. Il dermatologo è diventato la figura fondamentale per la diagnostica, la prevenzione e anche il primo approccio terapeutico chirurgico di questa malattia. Passi importanti in avanti li abbiamo fatti anche nella terapia delle forme avanzate di questo tumore, grazie all'avvento dei nuovi farmaci biotecnologici che consentono di trattare anche melanomi in fase avanzata e metastatici. Grazie all'avvento dei nuovi farmaci.